che fanno Gildare oggi? ecco oggi fanno due patate al forno eccole qua, due patate per modo di dire che guarda qua, patate al forno e? fettine panate, che vuoi che fa? uno spettacolo patate lavate vai, ecco qua, voilà, ecco qua, adesso le condimo, ecco qua rosmarino, patate senza rosmarino, sabone uguale eh, però con rosmarino, un po' di aglio, allora un po' di sale, sa che belle queste patate, ho messo un po' di sale, ecco qua, un po' di pepe, ecco qua e adesso mettiamo l'olio, ecco qua, voilà, pronte eccole qua da infornare, le vado a infornare, 180 penso una mezz'oretta, tre quarti d'ora a forno ventilato eh, vai Gildare, e se comincia con le fettine panate, andiamo a vedere va che fettinone, ecco qua, mamma mia, allora eccole eh, guardate che belle che sono queste fettine, allora che ci hai messo Gildare? quante uova, quante fettine sono? di sale sono otto fettine, belle grosse, io ci ho messo quattro uova, ok, bene, un pochettino di sale e adesso del pano, pan grattato, fa da occhio, le uova le hai sbattute vero? si, ci hai messo il sale e ci hai messo le fettine, si, vai, mamma mia, capirei poi, patate al forno e fettina panata che vuoi devo dire, ah, che spettacolo, oppela, allora, nell'uovo, io ci ho fatto questa, la mezz'oretta buona, eh, ok? ok, cara, a mano fa adesso Gildarella? si, riesco meglio, non c'è niente da fare fatte tutte Gildarella, le hai ben panate? ecco, adesso gli faccio le intacchette, così non si arricciano quando le frigo, eh? va bene? va bene, andiamo a friggere? andiamo, va vai, sta friggendo la prima fettina, e adesso mettiamo la seconda, sono squali queste, non so, fettina, oh eccole qua, am, vedi, qui che c'avevo? guardate che patatine, ecco, io queste me le manierei tutte è la super patata al forno di Gildarella, fatele perché sono buone di più e poi ci stanno le fettine panate, guardate che sventole le fettine, tiè, che volevo dire, uno spettacolo, grande Gildarella, brava, 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 e mo tiè, fate sti salutini, va? chi c'abbiamo? qua, oh ne è volato uno, leggiamo per prima, vai, allora, Balchize, Balchize, Gabè Balchize, speriamo di aver detto bene, un bacio grande, ciao allora, Tania Crescenzi, ciao Tania, bacio poi Angela Allocca, ciao Angela, bacio poi Gabriella Palladino, ciao Gabriella, bacio ciao Gabriella, bacio Rosanna Carlucci, ciao Rosanna ciao Rosanna, bacio poi Anna Maria Bianchi ciao Anna Maria, bacio e Monica Nocera da Roma ciao Monica, bacio eccoci qua allora, amore mio, adesso saluta a tutti e sempre con il cuore invece di dire pure i bacetti nel cuore, ma si è imparata a farlo ecco qua, e diamo sempre tutte quante, eh, tutti quanti va bene? va bene che sei, guardate, mamma mia Giltere, cominci a mangiare, Giltere, dai, andiamo a tavola, va ah 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 mi raccomando che seguitemi, non lo sanno, ma che te lo devo dire, ah belle mia, si giocava un pochetto, bisogna ride, bisogna scherzà, comunque scherzi a parte, seguitela per davvero, ciao belli, ciao ciao, ciao amori.